Siamo in fila per l'embarco per il volo Roma-Aquila, è vero? È vero, per me è un'emozione grandissima, penso anche per voi e per quelli che ci stanno aspettando ad Aquila. Mi auguro che sia veramente l'inizio di un percorso nuovo e comunque un fatto, oserei dire, storico, nel senso che finalmente l'aeroporto è certificato e stiamo partendo per arrivare all'Aquila in aereo. Grazie. Grazie.